Si amplia in regione il bacino di utenti chiamato alla vaccinazione anti-covid. A partire dalle 12 di oggi, infatti, hanno preso il via le prenotazioni per le somministrazioni riservate ai cittadini marchigiani, compresi nella fascia d'età tra i 70 e i 79 anni. Per tutti coloro che potranno raggiungere i punti vaccinali della popolazione individuati sul territorio regionale, sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti-covid-19 attraverso il portale online di Poste Italiane, al quale è possibile accedere anche attraverso il sito della Regione Marche, consultabile all'indirizzo www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, oppure tramite il numero verde 800 00 99 66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Per la prenotazione online, oltre ai dati personali dell'utente, occorrerà presentare il numero di tessera sanitaria e del codice fiscale, insieme ad un numero di cellulare al quale verrà confermata la registrazione dell'appuntamento. Una volta avviata la prenotazione, all'utente verranno immediatamente comunicati il giorno e la sede dove verrà somministrato il vaccino, insieme all'orario in cui il cittadino si dovrà presentare al punto di vaccinazione. Al momento della somministrazione della prima dose, sarà poi comunicato il giorno per effettuare il richiamo. Le novità in partenza oggi a livello regionale non riguardano però soltanto la tematica vaccini. È in vigore da questa mattina, infatti, la nuova ordinanza firmata dal governatore Francesco Acquaroli, che limita gli spostamenti per il periodo pasquale per chi proviene da fuori regione. La misura vieta ai cittadini non residenti e non domiciliati nelle Marche di raggiungere le proprie abitazioni, diverse da quella principale e quindi le cosiddette seconde case, nelle giornate antecedenti e a cavallo della Pasqua. L'ordinanza sarà valida fino alla mezzanotte di lunedì 5 aprile e lo spostamento resterà consentito soltanto in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, sempre mediante l'uso dell'autocertificazione. Un provvedimento ritenuto necessario in forza del principio di precauzione e alla luce dell'evolversi della situazione pandemica nelle Marche.